Hanno tutti ragione e le pelle si danno ai porci ma conoscere una donna è come imprigionare il vento un amante in una foresta novegese è un addio alle armi e amare una donna e toccare un lago che sarà, sarà 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 chi sarà, sarà chi sarà, sarà chi sarà, sarà chi sarà, sarà il giorno prima della felicità passa per un teatro di provincia è una storia di amore e tenebre è una piattaforma storica alla ricerca del tempo perduto guardando la natura esposta da una camera con vista in una timida giornata d'agosto che sarà, sarà 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 Grazie a tutti.